Ora vedo, perché già hanno camminato con il tempo, il numero 13 era il più veloce, lo fanno parte prima. Il Daniele è andato a non capire, è camminato tranquillo, ora ora è andato a non capire, 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 non capire. L'azienda s 정a tanto lo vedo, non capire. Quindi il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.